Moritz, raccontami qualcosa della tua battuta, perché non c'è tanta rotazione nella palla ed è fortissimo, forse non ti abbiamo mai visto battere così forte come oggi. Non lo so, ho provato di battere forte, come lo dici, se va bene così, sono felice. La squadra sta crescendo, questo 3-0 ci voleva. Sì, certo, noi abbiamo avuto bisogno di questi tre punti importantissimi che li abbiamo presi oggi. A livello personale come ti stai trovando? È la tua prima stagione in una squadra probabilmente di alto livello, qui in Italia, come stai vivendo questo periodo? Sto bene qua, sto bene con la squadra, abbiamo un buon feeling tra di noi, mi sento bene, conosco il Giangio, da tanto tempo con la nazionale, quindi sapevo che cosa si aspetta qua per me e sono molto felice di avere la possibilità di giocare qua. Grazie Moritz.